Quindi questo è il secondo me che ti vuoi dire, eh? Se qua la voglio chiudere, per esempio qua, diventa una radicatata chiusa. Allora, adesso ci serviranno i volontari. Quanti? Ma io ho 18, ho 18 anni fino. Adesso, è un po' di un momento. È importante perché, eh? Il primo, l'altro, il secondo. Adesso? 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 Grazie. Che tu li spaventi questa cosa in Marvel. Grazie. 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 Grazie.